Delle volte non è chiaro che cosa significa decidere e avere la responsabilità di aver preso una decisione. A me è capitato in alcuni momenti della mia esperienza politica di assumere delle scelte che hanno fatto discutere. Penso ad esempio a tutta la questione del termo valorizzatore. Un pomeriggio ho ricevuto la telefonata di un babbo, di un bambino che stava male, molto male, e che mi accusava perché aveva letto sui media, sui giornali, che quel termo valorizzatore che noi avevamo deciso di costruire, ecco quel termo valorizzatore responsabile di ciò che era accaduto a sua figlia, quel termo valorizzatore ancora non era stato costruito. Avevamo solo preso la decisione, ma di fronte al babbo di un bambino malato, tu vai a letto la sera e ti fai tante domande, ti metti in discussione. Credo che troppo spesso chi fa politica seriamente, fino in fondo, con coraggio e con determinazione, non sia considerato per quello che è. Una persona che quando va a letto la sera si pone delle domande, degli interrogativi, si mette quasi in discussione. Per scegliere, per decidere, per avere il coraggio di assumersi una responsabilità, occorre probabilmente tanta grinta, tanto coraggio, ma anche la volontà di discernere, di riflettere, in qualche modo di mettersi in gioco fino in fondo.